Questo insetto è un grillo. Non so che grillo è. Ma i grilli appartengono all'ordine degli ortotteri e della famiglia dei grillivi. Prima un deco ha cercato di mangiarlo. I decchi e le lucertole sono i peggiori nemici degli ortotteri. Sono insettivoli. Si è mosso. Gli ho appena andato la buonasera. Guardate. Si sta muovendo. Se questo grillo fosse un grillo parlante gli direi che grillo sei. Capito? Se solo questo grillo fosse, lo ripeto, se questo fosse un grillo parlante come il grillo di Pinocchio gli direi che grillo sei. Il grillo a differenza della cicala appartiene alla famiglia degli ortotteri come la cavalletta. Solo che la cavalletta è più verde.